Signore e signori benvenuti in questo nuovo video dello staff di Storia d'Italia. Quest'oggi parleremo di un piccolo e sconosciuto capitolo della nostra storia. Stiamo parlando della disastrosa spedizione Miani. Per parlare di Antonio Giuseppe Miani, il protagonista della nostra storia, dobbiamo in primis parlare del contesto storico in cui ci troviamo. Per l'esattezza ci troviamo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. Questo periodo storico vide il culmine delle ambizioni coloniali europee, che arrivarono a spartirsi grosse fette del continente africano e del sud-est asiatico. L'Italia, entrata in ritardo in questa corsa alle colonie, pose prima i suoi occhi sul corno d'Africa, arrivando prima in Eritrea e qualche anno dopo in Somalia. Conquistate le regioni costiere, con la presa di Keren e di Asmara nel 1889, l'Italia tentò di conquistare l'entroterra. Le nostre truppe si scontrarono negli anni successivi contro uno dei pochi stati sovrani del continente, ovvero l'impero d'Etiopia. Conosciamo tutti come andò a finire. L'esercito etiope, più numeroso e soprattutto equipaggiato con armi europee, sconfisse le truppe italiane ad Atua, ponendo fine temporaneamente le ambizioni colonali italiane. Durante queste campagne di conquista intera d'Africa, entra in scena il nostro protagonista, Antonio Giuseppe Miani. Questo giovane ufficiale, classe 1864, dopo cinque anni passati all'Accademia Militare di Fanteria e Cavalleria di Modena, fu assegnato al 9 reggimento Bersaglieri. Nel 1886, dopo essere stato promosso tenente, fu trasferito al reggio corpo truppe coloniali di stanza in Eritrea, dove si distinse particolarmente durante gli scontri contro le popolazioni locali. Miani non combatte ad Atua, ma il cielse nei combattimenti di Aga e Debra Mazzo, combattimenti che ebbero luogo tra il 2 e il 7 maggio 1896, che valsero la liberazione di Atigrat. I risultati raggiunti durante la campagna coloniale gli valsero tre medaglie d'argento al volor militare e la proporzione a capitano. Dopo i fatti di Atua, seguirono anni di incertezza politica, terminati con la salita al potere di Giolitti. Miani, richiamato in padre d'autorità, passò i primi anni del Novecento tra Torino e Livorno. Dopo due anni di aspettativa, presi a caso della morte del padre, fu richiamato in servizio attivo il 22 maggio del 1908. Promosso, pochi mesi dopo, al grado di maggiore, fu assegnato al comando della divisione militare di Milano. Per l'Italia e le altre potenze europee, dopo l'apertura del canale di Suez avvenuto il 17 novembre 1869, il Mar Mediterraneo aveva gradualmente ripreso l'importanza dal punto di vista economico e strategico. L'Italia, con la sua posizione centrale, mirava ad accrescere la sua importanza ed influenza nella regione. I pieni italiani, inizialmente, furono un fallimento. La volontà di formare un protettorato italiano in Tunisia fallì miseramente quando, nel 1881, la Francia occupò militarmente il territorio tunisino. L'anno successivo fu la volta dell'Egitto, occupato militarmente dall'impero britannico. L'unico territorio strategicamente utile in Nordafrica rimase la provincia della Tripolitania, territorio sotto il dominio ottomano. Giolitti preparò con discreto successo la spedizione per la conquista del territorio dal punto di vista diplomatico, ma disastrosamente dal punto di vista militare. Nonostante i piani per un'eventuale occupazione della Tripolitania erano pronti fin dall'occupazione del 1885 di Beliul e Massawa, con l'aggravarsi delle tensioni diplomatiche tra i vari stati europei a casa delle varie crisi marocchine, nel 1911 Giolitti decisi di dare una svolta al caso libico. Dopo la scadenza dell'ultimatum italiano, iniziarono subito le osterità contro la sublime porta. I scontri navali dimostrano al mondo la vulnerabilità del malato d'Europa. Per quanto riguarda invece gli scontri di terra, i nostri reparti occuparono in primis Tripoli, dopo feroci e violenti combattimenti, e poi, man mano, la maggior parte delle città costiere. Le controoffensive turche fecero vacillare le nostre posizioni, anche a causa della disastrosa e repentina preparazione dell'invasione. Nonostante, nei mesi successivi allo sbarco, le nostre truppe erressero ogni tentativo di controvversiva turca. Nonostante tutto, le principali città costiere erano sotto il controllo italiano, ma l'entroterra era saldamente sotto il controllo delle forze ottomane e delle milizie loro alleate. Dopo numerosi colpi di mano da parte della reggia marina, come l'occupazione del Dote Caneso e la forzatura dello stretto di Dardanelli, la sublime porta fu costretta alla pace, ratificata nel 1912 con il Trattato di Losanna, che stabiliva un protettorato italiano nella regione. Nonostante la maggior parte delle forze turche si arresero una volta stipulata la pace, continuarono gli scontri tra i ribelli e le truppe italiane, che cercavano progressivamente di penetrare nel territorio. Dopo la penetrazione italiana in Tripolitania e in Cirenaica, si decise di occupare militarmente il Fezzan, regione prevalentemente desertica, posizionata a sud rispetto alla Tripolitania. La zona era scassamente popolata. Un censimento redatto dall'autorità ottomane nel 1911 stimava che la popolazione della regione ammontava circa 50.000 persone, disperse per la regione. Insediamenti di maggiore importanza si trovavano in prossimità delle oasi, come Murzuk, capologo della regione. Altri insediamenti di nota erano Brac, Seba e Gat. Resto il fatto che tali villaggi superavano raramente i mille abitanti. Le strade che percorreranno i nostri soldati sono principalmente piste caravaniere, utilizzate per secoli da mercanti. L'economia della regione si basa per la maggior parte appunto sul commercio, soprattutto di schiavi. All'epoca dell'occupazione italiana, il commercio di esseri umani era stato già fortemente contrastato dalle autorità ottomane. Oltre a ciò, imposero gravi tributi alla popolazione locale, causando un progressivo impoverimento generale della regione. Qui entra ancora una volta in gioco il nostro protagonista. Miani, promosso intanto a tenente colonnello, fu scelto per condurre una spedizione militare nell'entroterra libico, nel luglio 1913. L'ufficiale comandava due battaglioni di Ascari-Ritrei, due sezioni di artilleria da montagna cammellate, un protone servizi e sette stazioni telegrafiche. Le truppe furono rapidamente organizzate di inquadrare da Tripoli, per poi raggiungere Sirtevia Mare. La colonna era costituita da 1100 uomini, 109 nazionali e resto coloniali, 500 familiari degli Ascari, 10 canoni da montagna da 75 modello 1902, 4 mitraettrici Vickers, 4 autocarri e 1765 cammelli, carichi di acqua, munizioni e altri rifornimenti. Inoltre si procedette ad arruolare volontari indigeni nel Fezzan. Tra gli uomini della spedizione facevano parte il capitano Antonini Antonini, il tenente Ferrante Vincenzo Gonzaga, ed il tenente medico Guido Rellini. Tenete a mente i loro nomi, ci saranno utili per raccontare i fatti che stanno per coinvolgere la colonna. Resta il fatto che la penetrazione italiana era cominciata precedentemente dall'avvio della colonna di Miani. Infatti il capitano Ercolano Gaddi, alla testa delle sue truppe, aveva conquistato Sokna il 23 luglio. Tre giorni dopo Gaddi fu raggiunto da Miani. La marcia verso l'Asi non fu di certo piacevole. Il tenente Gonzaga, in una lettera indirizzata al padre, scrisse Figurati che da Sirti a Sokna abbiamo incontrato un'unica palma. Tutto il resto è deserto. Pietra, pietra, null'altro che pietra. Ed anche Sokna è una misera cosa. Qualche gruppo di palme, qualche giardino, ma niente di quell'Africa ubertosa che si poteva pensare. Quelle foreste vergini, niente di quelle osi ricche di cui parlano i libri. Nei mesi successivi la colonna stabilì una solita base nell'oasi libica ed iniziò i preparativi per un'ulteriore avanzata. La colonna ripresa a marciare solamente a dicembre, dirigendosi verso sud, sempre allerta, in direzione di Brac, capoluogo dello sciatio orientale. Durante la lunga avanzata i volontari libici impressionarono notevolmente gli ufficiali italiani. Lo stesso Gonzaga, in un'altra lettera indirizzata al padre, affermò Ho potuto constatare l'eccezionale resistenza delle truppe libiche nelle marce. Resistenza superiore a quella degli stessi eritrei. Sono dei veri cammelli. Quando si giunge alla tappa, noi che abbiamo fatto tutto il tragitto sui cammelli, ci sentiamo stanchi. Loro no. Rizzano le nostre tende, ci preparano la tavola, tutto quello che ci occorre. Poi accendono i loro fuochi e si preparano il tè chiacchierando. E durante la marcia, mai nessun segno di stanchezza. Sono delle truppe magnifiche, che potranno rendere assai se sapremo istruirle e condurle. Attraversato il Gebel el-Soda e il pericoloso passo Kneir, la colonna si imbattè presto contro numerose forze ribelli. Il 10 dicembre, le truppe italiane sconfissero un piccolo gruppo di nemici a Esk-Sheb. Due giorni dopo, poco più a sud, nei pressi dei pozzi di Eskida, Miani sconfisse, dopo poche ore di aspri combattimenti, le truppe di Mohamed ben Abdallah, occupando alle 15.30 di quel giorno il castello della città di Brak. Mohamed e i suoi senussi, incassati alla sconfitta, presto si riorganizzarono presso Maharuga, desiderosi di vendicare l'umiliazione subita. Miani non si perse d'animo. Dove aver organizzato una guarnigione capace di difendere Brak da eventuali attacchi, lasciò il 23 dicembre l'insediamento, cercando lo scontro frontale con i libici. Il giorno dopo, gli italiani ingaggiarono in una singuinosa battaglia le truppe senussite. La battaglia terminò con una decisiva vittoria italiana. Mohamed ben Abdallah cadde durante i combattimenti, insieme ad altri 250 senussi. Le truppe italiane ebbero 15 ascari morti, tra cui il loro comandante, Antonio Dedumilicis. Sgomberata la via da forze ribelli, le truppe italiane occuparono Maharuga, entrando nella cittadina verso le 17 del 1 gennaio 1914. Il mese successivo, 500 uomini della colonna, partiti da Brak, occuparono pacificamente Seba, stabilirono in un fortalizio sulla collina di Algara un commissariato governativo del Fezzan. Successivamente, le truppe italiane si mostrano verso Marzuc, occupandola pacificamente il 3 marzo. I senussi, astutamente, finsero di sottomettersi ai conquistatori, ma era chiaro che l'onanimo guerriero non si fosse spento. Per i meriti di guerra, Miani fu promosso a colonnello e venne segnito successivamente, il 5 giugno 1915, della Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia. Tengo a sottolineare che la maggior parte delle foto che stiamo vedendo sono state scattate dal tenente medico Guidorellini. Raggiunti gli obiettivi stabiliti, il colonnello si misera all'opera per migliorare le disastrose vie di comunicazione impervie sotto il comando ribelle. Resta il fatto che l'ostilità delle tribù locali fece desistere Miani dalla realizzazione di questo piano. I senussi, intanto, approfittando dell'incertezza dei nostri, si riorganizzarono saldamente a Merduma. Gli attacchi a piccoli nuclei di italiani si fecero sempre più frequenti, anche a causa dell'incremento di finanziamenti ottomani dovuti allo scoppio del primo conflitto mondiale. La necessità di rinforzi indossi Miani ad arruolare forzatamente i nativi del posto, anche se commise l'errore di farli reclutare da funzionari locali, simpatizzanti per i senussi. Infatti presto scoppiò una ribellione nel mese di novembre, quando le milizie locali formate da Miani si ribellarono apertamente, unendosi ai ribelli. Gli italiani, costretti a rifugiarsi nei presidi, per ordine del colonnello Miani, progettavano i da farsi. Miani decise di organizzare una piccola spedizione punitiva, organizzando tutte le truppe a Brac. Fu una decisione a dir poco errata, le milizie catturarono nella notte il Forte di Gara, presso Seba. Nulla contarono i numerosi contraattacchi delle poche uniteri tra i presenti in loco. Udito ciò, Miani ordinò la ritirata generale delle truppe italiane del Fezzan. La ritirata delle forze presenti a Brac fu assicurata da rinforzi provenienti da Nord. Per quanto riguarda invece i presidi presenti sul territorio, numerosi furono distrutti da ribelli, come quelli di Ubarri ed Ederi. Il presidio di Ghat riuscì, dopo varie perifezie, a rifugiarsi in Tunisia, mentre il presidio presente a Murzouk, capoluogo della regione, fu necessario l'invio di una colonna di autocarri per l'evacuazione. La ritirata della colonna non fu facile, nonostante rinforzi. Infatti furono sorpresi il 25 dicembre da un attacco ribelle nei presidi Buengheim. L'attacco casò la morte di numerosi ascari e soldati italiani. La colonna contava ormai solamente 40 ufficiali, 100 soldati nazionali, 780 eritrei e 200 libici. Arrivato a Tripoli, Miani fu esonerato dal comando e rimandato in patria. Qui fu tenuto in posizione di riserva per un possibile reimpiego. Intanto la ribellione si stesse anche nel Gebel e nella Sirtica. Alla fine del 1914, le truppe presenti a Gatames, Nalut e Sinaum furono fatte ripiegare verso la costa. Al di là degli effimeri risultati politici e militari di questo precoce tentativo di occupazione del Fezzan, Corrado Zoli, che seguì per quattro mesi l'andamento delle operazioni militari come inviato del secolo, riportò da questa esperienza una serie di informazioni intorno alla vita ed i costumi della popolazione Tuareg, al paesaggio naturale, alla dislocazione dei vari gruppi di oasi, alla viabilità caroveniera e costituirono il primo importante contributo alla conoscenza di quella lontana regione sahariana. La situazione nella Sirtica non era ediliaca. Le truppe italiane erano internate nelle principali città costiere sotto costante minaccia senustita. Il calzato da Salandra, il governatore della Libia e il generale Tassoni ordinò di pacificare la zona, relegando questo arduo compito al colonnello Giannazzi, forte di 2000 uomini, di cui però solamente 700 erano soldati regolari. provenienti dal primo reggimento libico. La colonna era inoltre dotata di quattro cannoni da 7015 modello 1902 e sei mitriatrici pickers. La forza fu presto circondata da 2000 senussi presso Cormet e il Ciadamia. I italiani, dopo scontri fuori bondi, dove lo stesso Giannazzi fu ferito gravemente, furono costretti a ritirarsi su un Mizda. Località che però non fu mai raggiunta dalla colonna, che fu orientata presso Wadi Marsit. Le perdite furono alte, sia in termini di vita umane che in materiali bellico. Più di 400 uffici furono persi, insieme a tre cannoni da 7015. L'alto comando, su richiesta di Tassoni, decise però di rispedire il colonnello Miani in Libia per ristabilire l'ordine. Arrivata misurata, organizzò una colonna composta da un battaglione del 57esimo reggimento di Fanteria, un battaglione di bersaglieri del 20esimo reggimento, il 15esimo battaglione di Treo, il 4 ed il 13esimo battaglione libico, ed uno squadrone di meharisti, per un totale di 3.070 soldati regolari, cui si aggiunsero due batterie da 70 mm, composte da 12 pezzi da montagna e da 12 metriatrici Maxim Vickers, più 2.000 cammelli e 20 muli. Inoltre, Miani reclutò le bande irregolari misurate, Zitane e Massilati. Il 5 aprile 1915 la colonna lasciò misurata, arrivando 4 giorni più tardi a Birlazar, dove l'attendevano le bande Taruna e Orfella, comando del Maggiore Rosso. Il 14 aprile, la colonna, forte di 6.000 uomini, si accampò a Bir el Ghedaya e da lì ripartì verso l'accampamento dei ribelli, che si trovava presso Ghaz Bruhadi. Possero difficoltà per l'approvvigionamento dell'acqua e per alcune bande arabe che non volevano allontanarsi dal loro territorio. Il 28 aprile, la colonna ricontinuava a marciare in direzione di Ghaz Bruhadi, località in cui si stimava si trovassero circa dai 1.000 ai 1.500 Mujedin, gli ordini dei capi ribelli Safi Eddin, Ahmed Tuati e Abdallah Ben Idris. Alle 10.30 dello stesso giorno, i ribelli attaccarono la lenta colonna italiana, concentrandosi sulla retroguardia, formata dalle bande irregolari libiche. Le salmerie caddero rapidamente in mano nemica, anche a causa del tradimento delle bande di misurata, Taruna e Orfella, che si diedero al saccheggio. La banda Ziten non tradì, ma travolta dal caos della battaglia, ormai in rotta, cominciò la drissastosa ritirata verso Sirte. I reparti legorali libici insieme ai reparti nazionali combatterono eroicamente, nel tentativo di attunare la sconfitta e di ritirarsi con ordine fino a Sirte. Dopo che la maggior parte del corpo ufficiale dell'espedizione cadde vittima della fucileria senussita, il capitano dei bersaglieri Antonino Antonini raccolse i rimasugli della colonna e riusciò a ritirarsi ordinatamente fino alle dune a sud di Sirte a difesa della città. La sera il disastro emerse in tutta la sua gravità con la perdita di 19 ufficiali, 237 soldati nazionali e 242 asqueri eritrei e libici. I ribelli catturarono 5.000 fucili, circa 3 milioni di cartucce, almeno 6 mitriatrici, quasi tutti pezzi da 70 mm e persino la cassa militare. Anche il colonnello Miani fu ferito da due proiettili. Nonostante ciò, al suo ritorno a Sirte in data a primo maggio 1915 convocò un tribunale militare straordinario che condannò a morte 13 capi delle bande libiche cui egli stesso aveva affidato posizioni di comando. Considerato dal comando italiano come principale responsabile della disfatta, fu fatto rientrare precipitosamente in Italia ma non venne sottoposto ad alcun processo. Scelto come capro espiatorio il 16 giugno 1916 fu collocato a riposo d'autorità e richiamato brevemente in servizio nel corso del 1917 assumendo l'incarico di comandante del settore della Vallarsa. Fu senorato poco tempo dopo non ricoprendo più alcun incarico militare. La disfatta delle truppe italiane fu causato dalla scelta di Miani di reclutare forzosamente truppe locali. Le nostre truppe regolari forti di 3.000 uomini e 220 cavalli erano troppo numerose rispetto alle forze regolari. Se uniamo questo alle loro dubbi a fedeltà e alla scarsa volontà di battersi per la causa italiana notiamo che il tradimento consumato a gas blu haddi era già scritto. Ciononostante la sconfitta delle truppe italiane non è da imputare soltanto alle truppe irregolari ma bensì alla scarsa capacità tattica ed organizzativa di Miani che non imparò nulla dalla sua esperienza precedente nel Fezzan e dalla disfatta di Giannazzi. La colonna compatta ma poco agile fu un facile bersaglio per le mobili forze senussite. La sconfitta fu causata anche grazie alla mancanza di un'adeguata ricognizione e conoscenza del territorio. La responsabilità però non è soltanto imputabile a Miani lo stesso Tassoni infatti su pressione dell'alto comando ovvero il generale Cadorna negò adeguati rinforzi di turpe nazionale al colonnello dato che la maggior parte dei soldati italiani erano stati rimpatriati in vista dell'imminente conflitto contro l'impero austro-ungarico. La tentata occupazione del Fezzan fu un fallimento dal punto di vista sia tattico che strategico. Un tale dispiendo di risorse per una regione prevalentemente desertica priva allora di qualsiasi valenza economica rese la conquista della Libia un disastro. Per quanto riguarda il Fezzan le parole del tenente Gonzaga esprimono una preoccupante incertezza riguardo la valenza delle terre appena conquistate. Non so se si potranno mettere a frutto queste terre ma è certo che ciò che è deserto rimarrà sempre tale perché mancano le condizioni di vita. Il resto temo darà per molto tempo assai pochi frutti. Per terminare questo episodio dedicato alle nostre sventure coloniali voglio lasciarvi con una frase del peggior ufficiale che l'Italia abbia mai visto ovvero il maresciallo Graziani forse una delle poche frasi sensate che abbia mai detto. La guerra nel deserto deve essere totalitaria in avanzata ed in ritirata nel deserto non ci si può mai fermare. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like ed iscrivervi al canale. Inoltre vi ricordo che questo canale va avanti grazie alle vostre donazioni e a Patreon. I link sono in descrizione. Inoltre vi ricordo di andare a dare un'occhiata al canale di Parabellum dove in uno dei suoi recenti video ha pubblicato la storia di Ardito Desio e con questo vi lascio.